Ehi amico mio, visto che nessuno qui in Italia ne parla, mi puoi dare qualche formazione sulle elezioni austriache? Come è andata a finire, insomma? Elezioni Austria, vince estrema destra di Kickel. È la prima volta da fine Seconda Guerra Mondiale, Ancronos. Il Partito della Libertà, FPOE, formazione di estrema destra, ha vinto le elezioni parlamentari in Austria con il 29,2% dei voti. Lo ha annunciato il Ministero degli Interni Austriaco. È la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che in Austria un partito di estrema destra vince le elezioni. Ho capito, ho capito che è la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che un partito di estrema destra vince le elezioni in Austria. Ma facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Forse la gente, anche nella verde Austria, si è leggermente rotta i coni dell'immigrazione incontrollata di massa, di rapida, le elezioni, scippi, stupri. Altrimenti, com'è possibile che dopo la Seconda Guerra Mondiale per la prima volta vince l'estrema destra? Eh ragazzi, quando la sinistra ti porta a non poter più uscire la sera liberamente con un anello d'oro, degli orecchini d'oro, perché rischi di essere non solo rapinata, ma violentata, stuprata e malmenata, qualcuno forse inizia a votare l'estrema destra.